Ciao a tutti popolo del tubo e bentornati in un nuovo episodio della serie alpina e qua devo dire che come alpi ci siamo, ci siamo proprio nell'ambientazione perché ha nevicato, siamo in pieno inverno, ho cambiato la season, ho tolto quella svizzera che pioveva sempre, ho messo quella del Tirol, Tirol lì c'è scritto, comunque insomma me l'avete segnalata voi, qualcuno mi ha detto pure metti quella del nord Italia che è meglio vabbè però secondo me qua su, sulle alpi qui ci sta un pochino meglio quella del Tirol ecco come vedete è molto buio nonostante siano 10 di mattina e ha nevicato di brutto quindi dobbiamo assolutamente curare i nostri animali se non vogliamo vederli fare una brutta fine quindi direi subito di iniziare raga, di iniziare a sistemare gli animali nonostante sono le 10 di mattina, io allora secondo me hanno esagerato con la luce perché non è possibile che alle 10 di mattina è buio così tra le alpi non lo so, insomma non me convince, non me convince, non me quadra, non me quadra comunque va bene, vediamo come si comporteranno poi l'estate, la primavera eccetera eccetera acqua e pulizia, acqua e pulizia, bisogna aprire la stallina come sapete per l'acqua e la pulizia apriamo perché se no mi decedono e non è il caso di farle decedere poverine la scopa di Mary Poppins è qua quella che ce vola via dalle mani adesso la prendiamo e la pulia, ci puliamo ok mi scusi signora Mucca, tolga l'ano, grazie allora, allora puliamo qua, puliamo qui, mi scusi signora Mucca anche a lei mi scusi ma ve levate che vedevo pulì, vedevo pulì, vedevo pulì, vedevo pulì allora ho pulito tutto, apposto così purtroppo ragazzi vi ricordate quel campo di soia che non avevamo tribbiato? ecco è rimasto là, è rimasto là per colpa della Sisio e della Svizzera non sono riuscito mai a lavorare il campo perché era sempre piovoso, era sempre umido e quindi abbiamo praticamente perso un raccolto di soia e questo è veramente molto 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 disdicevole adesso io dovrei andare a fare la razione mista ma per farlo, come vedete, ho comprato uno spargisale perché altrimenti non si riesce proprio a passare quindi sto cercando di fare la stradina per liberarmi il tutto ecco qua è molto importante liberare le cosine ecco mi ha slittato la cosa ovviamente non so se ve l'ho detto nelle scorse puntate ma ecco ho fatto un tutorial sulla Season quindi ho parlato anche di neve questa cosa l'ho detta il sale scioglie soltanto la neve quando è bassa se la neve non è bassa il sale non la scioglie ci vuole il turboneve, ci vuole qualcosa una lama eccetera eccetera io ovviamente ho comprato anche il turboneve per i pezzettini quelli un po' più ostici oh mi sono preso di petto che brutto incidente che brutto incidente ho preso proprio in pieno la botticina vabbè dai fa niente, fa niente qua è tutto indistruttibile raga purtroppo sul ghiaccio i mezzi scivolano sulla neve e quindi mi è scivolato il mezzo e non ci ho potuto fare niente ho finito il sale ho finito il sale vediamo se ne ho comprati altri pallet da qualche parte mi sa di no vero raga mi sa di no andiamo sulla neve che tanto il Lando, il Landini va bene anche sulla neve e allora facciamoci spawnare il sale qua due bei sacconi di sale che ci servono due bei sacconi di sale ok andiamo subito a caricare ok ok mamma mia raga mamma mia che inverno che inverno rigido io ho paura che dovrò sta a spalacqua la neve per tutto l'inverno perché la vedo brutta come situazione allora dobbiamo fare la reazione mista quindi dobbiamo togliere tutta la neve qui dai capanni delle balle mamma mia come si scivola raga come si scivola che nemmeno ve ne rendete conto se voi però non fate ammucchiare la neve cioè che ogni volta la togliete non avrete bisogno dello spazzaneve della cosa lì come si chiama della cosina della turboneve ecco vedete io sto cercando di di creare tutto il percorso per fare le stradine dai dai e sale dai e sale fai il tuo dovere salo vai salo oh attento salo attento salo che quasi scivola ok sto liberando adesso anche il fieno la parte del fieno vedete i mucchi poi per carità cioè i mucchi se non si squagliano da soli ormai non li togliete più eppure per questo che vi consiglio magari prima di usare il sale poi come ultima arma la turboneve e cose varie perché poi una volta che voi avete fatti i mucchi il sale non li scioglie più quindi diventa assai più disdicevole tutto quanto comunque mi pare di vedere che bene o male sono riuscito a toglie a toglie un po' di robina quella è l'entrata della stalla e lì purtroppo ci sono i mucchietti che avevo fatto con la turboneve vedete che c'è la turboneve sotto sotto al capanno e quindi adesso quei cosi lì non si scioglieranno mai più che amarezza che amarezza il problema della turboneve è che poi te levi cioè quella è buona per le strade ma in farm non è molto buona perché ti togli la neve dal lato destro e te la butti sul lato sinistro quindi capirete che la cosa è abbastanza disdicevole ha messo l'ampione in mezzo alle scatole e mi dà un urto raga che non ve lo potete nemmeno immaginare che urto che mi dà il lampione in mezzo alle scatole comunque dovrei aver finito ok scendiamo andiamo sul lambo ho visto che molti di voi mi hanno detto il lambo c'ha 120 ore mamma mia e che c'è raga è usato l'ho comprato appunto usato cioè non vedo qual è il problema che 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 il lamborghini c'ha 120 ore qual è il problema chi se ne frega l'ho comprato apposta usato cioè io adesso non so se è un bug della mod oppure l'hanno fatto apposta cioè hanno veramente deciso che se compri il trattore usato ce devi avere 120 ore qual è il problema ci sono i trattori usati che ci hanno milioni di ore porca miseria la gente si compra io mi devo fare un problema se ci avvi 120 ore non vedo il problema cioè qual è il problema lo ripareremo più spesso chi se ne frega però abbiamo risparmiato eh sui prezzi chi se ne frega allora ehm andiamo andiamo un attimino a fare la razione oggi cercheremo di risparmiare la paglia e la faremo con due di insilato e due di paglia perché appunto la razione mista si può fare in tanti modi in tanti tanti modi non c'è solo un metodo per fare la razione mista noi oggi la faremo con due e due cercando di non ammazzarci con sta neve qua anzi anzi no due due una e una perché perché di fieno ce n'ho poco e non vorrei non vorrei eh approfittarne troppo del fienetto ce n'ho un po' là dentro nel seccatore e lì nell'essiccatoio chiamatelo come vi pare e ce n'ho sei sette ballette lì insomma e poi d'inverno ho notato che gli animali magnano veramente un botto ma magnano veramente per mangiare raga ok a posto adesso andiamo a prendere un po' di fieno nel frattempo vi dico che la Giants è ufficialmente in ferie fino al giorno undici quindi sono attivi soltanto i i numeri per l'assistenza cioè le mail per l'assistenza se magari avete qualche problema insomma è rimasta attiva solo l'assistenza per quanto riguarda tutto il resto sono in ferie quindi amici miei niente mod fino all'undici di gennaio e questo è veramente disdicevole perché entreremo in in come si dice in astinenza da mod io lo so che entreremo in astinenza da mod però va bene fiamo finta di niente sorridiamo sorridiamo allora vediamo se è razione mista io credo proprio di sì io credo proprio di sì amici credo che sarà già razione mista sì sì che è razione mista sì sì sentite il vacco il vacco sì allora andiamo in stalla a dare sta pappetta e poi controlliamo il formaggio ma c'è poco da controllare con il formaggio perché d'inverno con la season le mucche il latte proprio ne fanno poco e niente cioè mentre in estate in primavera abbiamo dai 14.000 ai 18.000 litri al giorno ho notato che d'inverno sono mille e qualcosa insomma niente di niente di che allora qua bisogna hanno messo il trigger così lontano che dobbiamo entrare proprio dentro 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 aspetta che forse siamo entrati pure troppo dentro 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 come mai non mi prende il trigger come mai non mi prende il trigger prendmi del trigger dov'è il trigger non mi prende più il trigger niente mucche non magnate più perché non mi prende più il trigger don't prend me il trigger eccolo eccolo il trigger ammazza che è un po' stranetto sto trigger ok perfetto spegniamo tutto vediamo un attimino come siamo messi con gli animalotti bene bene poi nei silos che abbiamo distoccato niente vero nel mio bello silo se non ci abbiamo niente abbiamo solo il letame distoccato perfetto vi porto con me un attimo a vedere ah mamma mia fammi switch vi porto un attimino a vedere il campo amici miei vabbè questo è il campo che per fortuna avevo già trebbiato questo invece è il campo di avena che dice pronto per la raccolta però ovviamente è impossibile trebbiarlo perché vedete i campi sono ghiacciati e quindi è strano che ancora non è appassito tra l'altro sta cosa è strana quindi ci siamo giocati un intero campo e tutto ciò è davvero disdicevole io non so perché intanto ho spento il trattore quando in realtà devo portare il latte al mio caseificio mobile mobile il caseificio mobile allora andiamo 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 e prendiamo la botticina già caricata di mille litri di latte siamo ricchi ragazzi siamo ricchi guarda con mille litri di latte siamo ricchi allora scarichiamo dentro al caseificio mobile ok mobile facciamo qualche cacciotta e prendiamo qualche euretto meno male meno male qualcuno mi ha detto metti gli alberi da frutta anche qui ma raga ma che fanno tutte non possiamo fare tutte le serie gli stessi trattori tutte le serie le stesse mod cerchiamo un pochetto di variare perché se no facciamo sempre la stessa cosa allora vai con le cacciotte vai con le cacciotte 1600 1600 dai bene o male meno male che con le cacciotte qualcosina si guadagna però mamma mia mamma mia che moria un inverno da cui meno male stiamo uscendo ma manca manca ancora veramente un po' forse sarà il caso di fare la la coltura di silvia la silvia coltura non lo so proveremo a fare la silvia coltura vediamo un attimino raga perché veramente manda avanti quattro giorni d'inverno così senza fa niente mi sembra un pochino non solo noioso ma anche limitante dal punto di vista ahia sta a spaccare tutto stamattina con sto Landini dal punto di vista proprio dell'economia cioè manda avanti così le giornate del gioco senza fa niente non è molto indicato comunque adesso fatemi fare anche la strada sotto al silo se per caso c'ho bisogno ecco di andare qua sotto non si sa mai liberiamo un pochettino anche il silo se famo c'è una strada per il silo a posto comunque raga per questa puntata invernale devo dire che è già abbastanza spero ovviamente come sempre che questa esperienza nevosa vi sia piaciuta anzi godetevi questa di esperienza nevosa perché dubito che sulle altre season che sto usando che sono quella dell'Italia centrale e basta sull'altra season che è messa sulla mappa di Sukaz sull'Italia centrale dubito che vedrete la neve insomma non lo so però qua sicuramente la vedete quindi godetevi questa neve io spero che il video vi sia piaciuto commentate come sempre lasciate un bel like iscrivetevi in descrizione dell'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine alle ore 11 tutte le sere alle 20 e 30 il link è per comprare farming dalla mia affiliazione Giants dove potete aiutarmi a scalare le vette dell'affiliazione e non solo anche sostenete un pochino il canale e poi mi ero scordato i fari e poi ovviamente gli amici abbonati anima vita al cuore del canale consentono al canale di sostenersi di andare avanti e di portare tutti questi bei contenuti che state guardando detto questo amici miei tanti bacetti e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.